Ciao a tutti, questo è un video della serie recensioni di app che io trovo siano utili e che voglio condividere con voi. Oggi vi parlo di SatisPay. SatisPay è una start-up italiana che permette tramite l'app SatisPay di pagare nei negozi senza costi, senza nessun tipo di costo. Per quanto riguarda l'utente dell'app, ci sono dei costi per gli esercenti che se non sbaglio sono di 20 centesimi per spese superiore a 10 euro, però per chi di voi vuole utilizzare SatisPay come utente non ci sono assolutamente costi, non ci sono quindi costi di attivazione, di ricarica, tutto zero e tramite SatisPay potete pagare, quindi effettuare i vostri normali pagamenti invece di pagare tramite contanti oppure tramite carta di credito, bancomat, eccetera, appunto nei negozi che aderiscono a SatisPay. La cosa più interessante di SatisPay è che c'è la possibilità di partecipare ai programmi di cashback, cioè in alcuni casi è possibile avere una restituzione di parte di quanto si è speso nei negozi che appunto aderiscono a queste iniziative, ma tra poco vi spiego meglio. Per prima cosa per utilizzare SatisPay è necessario iscriversi, quindi se non l'avete ancora fatto io vi chiedo di utilizzare il mio codice che scriverò qui in sovrimpressione oppure metterò anche nel box il link che porta ad iscriversi appunto utilizzando il mio codice. In questo modo entrambi avremo 5 euro nel nostro budget, ecco 5 euro nel nostro conto SatisPay da spendere, come preferiamo. Ovviamente vi potete anche iscrivere senza utilizzare il mio codice, non c'è nessun obbligo, mi sembra ovvio, fate come preferite. Al momento dell'iscrizione vengono richiesti i vostri documenti, quindi codice fiscale e carta di identità, se non sbaglio, è il vostro IBAN. L'IBAN serve perché SatisPay si collega appunto settimanalmente al vostro IBAN ed è appunto tramite l'IBAN che vengono caricati i soldi sul vostro conto SatisPay. Nel momento in cui vi iscriverete dovrete impostare un vostro budget di spesa settimanale, cioè quanto pensate di volere a disposizione sul vostro account SatisPay per essere speso da spendere durante la settimana. Al momento dell'iscrizione, non immediatamente perché ci vuole qualche giorno per l'attivazione dell'iscrizione, però la prima volta verrà prelevato dal vostro conto corrente l'intero importo appunto che voi avete impostato come budget settimanale. Per esempio se impostate 50 euro come budget settimanale, al momento dell'iscrizione 50 euro saranno prelevati dal vostro conto corrente e trasferiti su SatisPay. Se li spendete tutti nel giro di una settimana, all'inizio della seconda settimana altri 50 euro saranno prelevati dal vostro conto corrente e caricati su SatisPay. Se ne spedete solamente 10, saranno prelevati solo 10 euro. Se non spendete niente, non sarà prelevato niente. Insomma, a inizio settimana voi avrete sempre il budget che avete impostato. Questo budget può essere modificato nel tempo, però l'operazione non è istantanea, quindi se siete in un negozio e avete il vostro budget residuo di 30 euro e volete spenderne 40, non c'è modo di pagare con SatisPay. Non potete fare modifiche estemporanee, ma dovrete per forza pagare tramite un altro metodo di pagamento. Potete modificare ovviamente il budget, ma la differenza sarà caricata sul vostro account solamente a inizio settimana, a inizio della settimana successiva. La cosa positiva è che nel momento in cui decidete che SatisPay non fa per voi, non lo volete più utilizzare, basta che impostate il budget a zero e all'inizio della settimana successiva i vostri soldi saranno trasferiti da SatisPay al vostro conto corrente senza appunto nessun tipo di spesa, debito, eccetera. SatisPay è un sistema sicuro per pagare, nel senso che ogni volta che aprite l'applicazione vi viene richiesto un codice PIN che impostate voi. Comunque è un momento del pagamento, gli esercenti vedranno il vostro volto perché dovete mettere un'immagine, non penso sia obbligatorio, però è molto conveniente mettere un'immagine, quindi la propria foto nel proprio profilo, quindi c'è anche la possibilità di avere questo riconoscimento. Inoltre ci vuole un po' circa una settimana per l'attivazione del proprio account, proprio perché vengono effettuate le debite verifiche, quindi ci vuole un po' però è ovviamente per ragioni di sicurezza, quindi benvenga questo tempo. Ovviamente per pagare è necessario avere una connessione internet, altrimenti l'app non funziona. Per trovare gli esercenti che aderiscono a SatisPay è sufficiente appunto aprire l'app, attivare la geolocalizzazione e vi appariranno nella schermata principale dell'app tutti i negozi più vicini con cui è possibile pagare con SatisPay. Se siete curiosi di vedere appunto se c'è qualche negozio dove di solito andate, vedere appunto se questo negozio c'è su SatisPay, potete anche vedere la mappa e vi metto il link qui nel box della mappa per vedere quali negozi aderiscono a SatisPay. Quindi vedete un negozio in cui si può pagare con SatisPay, ci entrate, dite all'esercente al momento del pagamento che volete pagare con SatisPay, quindi aprite la pagina del negozio su SatisPay, digitate l'importo da pagare, confermate, attendete che avvenga la conferma da parte dell'esercente e il trasferimento di denaro è compiuto. Ovviamente SatisPay è un'alternativa ai contanti per chi magari non utilizza Bancomat o carta di credito, però penso che la cosa più interessante di SatisPay e il motivo per cui io mi trovo molto bene personalmente e come me e tante altre persone è proprio il cashback. Periodicamente infatti vengono impostate delle campagne di cashback, dei periodi di queste offerte che sono variabili nel tempo. Allora per quest'estate c'è stata appunto questa campagna che è durata mesi e al momento credo che non ci sia nessuna campagna attiva di cashback, nel senso che in queste campagne si stabilisce un giorno a settimana in cui alcuni negozi chi vuole può aderire appunto all'iniziativa di cashback. Aprendo l'app vedrete appunto quali negozi aderiscono al cashback e con quale percentuale che può essere di 10, 20, addirittura 40%. Cosa succede quindi? Se voi andate in un negozio in cui c'è un cashback al 40% e spendete 100€, fate il vostro pagamento, immediatamente dopo il pagamento 40€ sono trasferiti sul vostro account. Quindi è veramente una cosa pazzesca, io l'ho fatto più volte quest'estate, di solito è un giorno a settimana in cui appunto c'è questo cashback così grande. In passato aderito anche S lunga, insomma ci sono diverse offerte siccome molto convenienti. Tenete conto che il cashback varia, nel senso che appunto ci sono alcune settimane in cui magari lo vedete al 40%, poi la settimana seguente può diminuire anche in funzione dei vostri acquisti precedenti, nel senso che a me è capitato in un negozio di avere un cashback del 40% al primo acquisto, la settimana seguente era diventato 30% mentre per esempio mia sorella era ancora 40% quindi siccome io avevo già acquistato da loro mi avevano diminuito il cashback quindi è un po' variabile come cosa, però sicuramente si può risparmiare molto. Una cosa da tenere in considerazione è che questo è proprio un cashback, cioè non è uno sconto quindi se voi sapete che comunque alla fine spendendo 100 ne avrete indietro 40, dovete però comunque avere quei 100€ sul vostro conto, non ne bastano solo 60 perché prima effettuate il pagamento e poi subito dopo, ma dopo, riceverete indietro una percentuale di quanto avete speso. Una cosa che non mi piace tanto di Satisfay è che queste campagne promozionali non sono rese ben chiare dall'app, cioè non se ne parla, nel senso che voi aprite l'app e vedete in quel momento quali negozi fanno le offerte, potete ovviamente fare una ricerca per luogo, per nome di negozio, potete mettere il filtro cashback, però per esempio se è giovedì e il cashback è di venerdì, voi non avete modo di vedere domani che cashback troverò, ed è una cosa un po' sconda perché non vi permette più di tanto di fare grossi programmi, cioè magari potete basarvi su quanto avete visto la settimana precedente, però non è detto che si mantenga tutto uguale. Io sono informata su queste campagne di cashback tramite i canali social di Satisfay che ovviamente di solito pubblicizzano e ho queste iniziative di cashback, però ecco purtroppo secondo me funziona bene e se magari siete in una grande città e decidete non so anche di uscire, magari siete in giro e così per curiosità prima di entrare e scegliere in quale ristorante andare guardate se c'è qualcuno che aderisce a Satisfay e ecco può essere anche un motivo per provare qualche locale nuovo magari, quindi sicuramente tenete d'occhio i canali social se volete sapere quando hanno inizio queste iniziative di cashback e poi ecco monitorate un po' nel giorno della settimana, in quel giorno cercate un po' la vostra zona, le zone che frequentate per avere un'idea approssimativa di quelli che sono i cashback che potete trovare e potrete trovare anche nelle settimane seguenti. Inoltre se impostate il vostro budget settimanale a 200 che è il massimo, non si può impostare più di 200, avrete un ulteriore cashback non limitato a uno specifico giorno della settimana o a specifiche campagne, piuttosto minimo nel senso che va a seconda del negozio dall'1 al 3%, non in tutti i negozi ma in tanti, quindi comunque si tratta di non è una percentuale molto significativa però insomma meglio di niente. Un'altra cosa che si può fare con Satisfay è pagare online, io non l'ho mai provato e credo che sia ancora un po' all'inizio quindi non sono credo tantissimi i negozi che permettono di pagare online e un'altra cosa invece secondo me molto molto utile è la possibilità di trasferire denaro agli amici, non so voi ma io odio quando si divide qualcosa e bisogna avere i soldi contati, il resto, magari se in tanti è complicato oppure non ci si vede, si deve dare dei soldi a qualcuno ma non hai occasione di vederlo spesso, ecco Satisfay è comodissima, io lo uso tantissimo appunto con mia sorella, peccato che i miei amici invece non l'hanno ancora fatto e vabbè, no comment. Inoltre su Satisfay è possibile anche pagare ricariche telefoniche e se non sbaglio anche il bollo auto da poco. La transizione massima consentita è di 1000 euro e il limite giornaliero e mensile di transazioni è di 1500 euro, però devo dire che io non mi sono mai avvicinata a queste cifre. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ovviamente aspetto sempre i vostri commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e se avete qualche consiglio voi per suggerirmi come risparmiare. Ci vediamo presto al prossimo video, ciao!